02, Sant'Ambrogio, Santo Domingo, non lo chiamo più perché spendo una cifra. Allora, Sant'Onore, no no, è una persona squisita a me, tutta la volta che lo chiamo. San Moritz, frettino, eh, glaciale, quell'uomo che quando lo dici il telefono... San Badrignano, lo sento volentieri da quando non si fa più, veramente. San Pellegrino è un gasato della Madonna.